Con l'amarezza normale di chi ha perso una partita, con la consapevolezza, come siamo già qui oggi, pensando alla partita di domani. Quindi una dietro l'altra, è stato così anche altre volte, sono successe altre sconfitte, che questa squadra ha sempre risposto in un modo molto positivo. C'è sempre stato il prendere le cose che succedevano nel modo migliore e io sono convinto che sarà così anche questa volta. Credo che è una squadra che sicuramente affronterà una competizione sapendo quanto è difficile qualsiasi partita, anche guardando quello che abbiamo vissuto l'anno scorso. Ogni fase è stata difficile, sofferta e quella è una consapevolezza di questa squadra.